Il Taranto non vince da 5 mesi ma quantomeno muove la classifica, restando però sempre più ultimo. 2-2 contro il Sorrento in una partita ricca di ammunizioni ed espulsioni. Una per parte con l'espulsione anche di Gautieri in panchina. Numerosissime come detto le ammunizioni. La cronaca si parte con il Taranto 4-3 così come il Sorrento di Barillari. Gautieri riesce a inserire Zigoni dal primo minuto, cross al quinto di Mastro Monaco, testa dell'attaccante del Taranto, secondo gol in campionato 1-0 per il Rosso Blu. Al quarantatresimo giunge il gol del Pari con Musso che sfrutta un rimpallo e riesce a depositare in rete. Finisce così il primo tempo 1-1. Ripresa, minuto 51, sorpasso del Sorrento dal vertice sinistro dell'area. Bolzius un gol imparabile per Del Favero. Il Taranto per la prima volta nei secondi tempi riesce a reagire al minuto 55 con Zigoni in aria piccola. Di testa ancora su suggerimento di Mastro Monaco. 2-2 sarà questo il risultato finale. A Caglia però qualcosa di clamoroso al minuto 57, c'è un tocco di braccio in aria di Cangianello. Milone fischia però un fallo di Fabro sul difensore. Proteste veimenti di Gautieri che viene espulso. Sessantottesimo Taranto vicino al nuovo vantaggio Fabro Matera in corsa al volo deviazione della difesa sorrentina. Settantaquattresimo il Sorrento ad andare vicino al gol Bolzius per Polidori che nel cuore dell'area non riesce a trovare la via del gol. All'ottantaduesimo viene espulso per doppia ammunizione Zigoni. Il Taranto resta in 10 uomini. Resterà come detto anche il Sorrento in 10 uomini per l'espulsione all'ottantottesimo di De Francesco. Sono sei minuti di recupero all'ultimo sinistro dalla distanza di Guadagni. Blocca Del Favero e finisce con il Taranto che non riesce ancora a trovare il primo successo in campionato.